Io spero che le immagini delle telecamere in strada, quelle in autobus, se ci sono, se c'è, se si sono salvate le immagini, le testimonianze ci aiutino a capire cosa è successo perché noi non ricordiamo quel tratto di strada come un tratto di strada degli incidenti. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, arriva all'Angelo di Mestre poco dopo mezzogiorno, annullati tutti gli impegni, indetti tre giorni di lutto regionale con l'invito a tutti gli enti di esporre le bandiere a mezz'asta, all'ospedale allestiti, servizio di accoglienza e sala dedicata ai parenti delle vittime della tragedia del bus con interpreti e psicologi. Abbiamo da un lato il tema del riconoscimento delle vittime e dall'altro quello di occuparsi dei pazienti. Ringrazio i medici, non solo quelli che erano in strada questa notte ma anche coloro che sono negli ospedali che sono rientrati dai turni da casa. Vi dico solo che ad esempio a Treviso abbiamo svuotato il pronto soccorso e abbiamo dirottato pazienti. Oggi i pazienti sono su cinque ospedali che sono ovviamente Mestre, Treviso, Dolo, Mirano e Padova. A Padova abbiamo la bimba di tre anni che è anche una grande ostionata per la quale siamo veramente preoccupati. Tra i morti una bambina di poco più di un anno e una ragazzina di 13 anni, tra i feriti una coppia di fratelli austriaci di 3 e 13 anni ricoverati a Treviso la cui mamma è morta insieme al compagno. Sulle cause di quella che definisce una tragedia immane, il governatore rimane prudente. Siamo davanti a una macchina che è recentissima, nel 2022. L'autista è una persona esperta, per bene, super referenziato per cui si tratterà veramente di capire la dinamica. Tutto fa pensare a un malore, però è prudente non avanzare ipotesi e usare il condizionale, il guasto tecnico piuttosto che altri fattori che oggi non ci sono noti. Attendiamo. Zaia ha ringraziato l'apparato sanitario per la mobilitazione sul posto e negli ospedali, dalla regione il supporto ai soccorritori anche in termini di protezione civile. È stato garantito come sempre il supporto nell'attività di soccorso, ognuno per quanto di competenza. La regione ha coordinato tutta l'attività dei soccorsi sanitari, intervenuti con una ventina di ambulanze, cinque ospedali coinvolti dove sono stati ricoverati i feriti, alcuni di quali purtroppo gravi. e per quanto riguarda la protezione civile ha garantito supporto e l'assistenza della popolazione laddove necessario.